Nel futuro di Milano potrebbero esserci non una, bensì due moschee. A Palazzo Marino sono stati presentati infatti due progetti, uno del coordinamento delle associazioni islamiche CAIM, che prevede la realizzazione di una moschea sull'area del Palashar Pallampugnano, e l'altro sostenuto dai consolati di Marocco e Giordania, che intende realizzare il luogo di culto in un'area privata posta in vendita nei pressi di Viale Certosa, dove un tempo c'era una concessionaria di autoveicoli. Mancano 396 giorni all'apertura di Expo 2015 ed evidentemente l'amministrazione comunale intende dare un'accelerazione. Sono una ventina i centri delle associazioni islamiche a Milano e Interland e mettere tutti d'accordo non è impresa facile. Il Comune di Milano da tempo sta dialogando con alcuni rappresentanti del mondo musulmano, ma non senza difficoltà. Inoltre da sempre l'opposizione di centrodestra in Consiglio Comunale ha dato parere nettamente contrario alla realizzazione di una grande moschea cittadina. Adesso forse si è giunti alle battute conclusive e il via ai due progetti potrebbe essere imminente. C'è però chi sostiene che, ad esempio, il CAIM non sia rappresentativo delle realtà islamiche a Milano. La nostra è una comunità estremamente plurale e eterogenea. Il CAIM è la prima realtà che è riuscito a mettere insieme le 25 associazioni in Milano e Interland. Noi siamo ovviamente rappresentativi. E dal CAIM anzi si sollevano perplessità sull'altra moschea che verrebbe finanziata da stati esteri come Marocco e Giordania. Noi abbiamo il nostro progetto, ripeto. Per altri progetti dobbiamo conoscerli. La nostra visione è una visione che mette al centro la comunità locale. Trattare con le ambasciate per quello che riguarda un diritto di culto di una comunità locale, di cittadini italiani, significa percepire sempre l'islam come qualcosa di etterno, di che non appartiene ancora al tessuto sociale italiano, ma è sempre qualcosa che fa riferimento a stati esteri. questo non è della nostra linea.